Le strade possono andare dal sud verso il nord, dall'est verso l'ovest. Le strade possono essere anche in forma di cerchio. Una persona può iniziare a camminare qua, ma si gira attorno, cioè può girare attorno a questo sui bonte. E allora è un po' questo che rappresenta questa poesia, cioè una poesia sulle strade è universale. Non si tratta della strada di una persona, ma si tratta della strada di un indiano, di un asiato, di un japonese, di un gongolese, di un americano. E questa è la strada. Cosa è la strada? Nostalgiche, non può ne pas incertare. Noi, noi, no. lendimità Non ci, noi, cosa è la strada, c'è. La schid inc Softwa. Il glativa con la gongola, i noni, da qualche ingٰenza. Di un sei care, con l'idea al Romania con la ingensità Grazie.